Bronx, New York, 9 settembre 1947 Carissimo Matteo, scusami per il ritardo e credimi se io ti dico che non ho avuto un minuto di respiro sino a questo momento. In casa ora si dorme, è notte alta. Io solo sono preso dalla nostalgia più acuta e penso, penso a San Marco, ai San Marchesi. Stiamo arrivando, guardi, alla casetta che acquistai nel 1996 per rimanere nella mia via Palude. E questa naturalmente per la gioia di rimanere.